Come da noi siamo molto contenti e orgogliosi di partecipare al prossimo convegno Wellfield del 20 giugno promosso da Este a cui vi invitiamo di partecipare numerosi. Perché? Perché chiaramente si parlerà di temi molto importanti, quali la cura della persona nei contesti organizzativi, quello su cui lavoriamo come HR ogni giorno affinché l'ingaggio delle nostre persone sia un elemento appunto di valore. Da tantissimi anni, dal 2011 in Danone, lavoriamo su questi temi e li misuriamo perché appunto abbiamo compreso come la cura restituisca professionisti migliori alle organizzazioni e quindi sarò felice di portare la nostra testimonianza e raccontare come ogni giorno misuriamo l'impatto delle politiche di cura all'interno appunto dell'organizzazione. Ci vediamo al convegno! Grazie a tutti!